Conifa è il nuovo canale per tutte le realtà operative nel mondo del calcio che non vogliono più richiamarsi all'industria del calcio come business e bassa ma che vogliono richiamarsi ai valori etici del calcio o quantomeno il calcio punto e basta. Vi sono molti messaggi che Conifa vuole trasmettere. Prima di tutto vogliamo unire il mondo, coinvolgere le genti che non sono rappresentate nella FIFA, creare un senso di fratellanza educando sull'importanza di ogni popolazione che vive sulla Terra. Vi è un numero di popoli dei quali nessuno sa nulla. Attraverso lo sport e gli eventi culturali che abbiamo nei nostri programmi di scambio speriamo di poter contribuire a rendere il mondo un po' migliore. Quindi possiamo dire che dall'inizio del nostro lavoro, cioè da settembre scorso anno ad oggi, abbiamo 14 formazioni attive e poi possiamo dividerle in tre fasce. La fascia quella alta di qualità, nel senso che sono molto attive, già lavorano per loro conto, come il Nord Cipro, come il Nagorno Karabakh, come l'Arcasia, come il Cilento o come anche l'Isola di Man che in lingua celtica si definisce è la Vanin. Poi abbiamo un'altra seconda fascia che è quella ad esempio di Padania, quella dell'Occitania o quella della Lappogna, che devono passare dal concetto di scatola vuota, cioè una squadra fatta solo per un evento, a un progetto duraturo per il proprio territorio, dove deve coinvolgere gli operatori che vanno dai giocatori, agli allenatori, agli arbitri, alle aziende che credono in questo progetto, che vogliono differenziarsi dal canale classico business, ma entrare in un'economia di slow economy. E poi abbiamo un altro filone di nuove formazioni che non erano mai esistite, come può essere la Franconia, come può essere l'Igoland, come può essere anche Monaco, che ultimamente sta facendo dei match amichevoli. Uno è stato il 6 di aprile sull'Isola di Man, il secondo match amichevole lo farà in Vaticano giù a Roma, contro il Vaticano il 10 di maggio.